Un progetto di legge molto atteso, quello che riguarda le cure transfortaliere appena approvato dai deputati europei. Quali sono le caratteristiche principali? Determinare in quale contesto, eccezionfatta per l'emergenza, le cure al di fuori dello Stato d'origine sono rimborsate. E' questo il contesto in cui si è tenuto il dibattito relativo alla direttiva europea sulla mobilità medicale. Françoise Grostet, relatrice al Parlamento europeo del progetto, è soddisfatta dell'intesa raggiunta. I pazienti potranno da oggi ricevere in un altro Stato membro le cure che hanno diritto nel loro Stato d'origine ed essere rimborsati secondo i parametri previsti dal proprio sistema sanitario. Resta che l'autorità nazionale dei 27 Stati membri dell'Unione potranno esigere dai propri cittadini un'autorizzazione preventiva, specialmente per le cure che necessitano almeno una notte in ospedale, così per i trattamenti di alta specializzazione per lo più molto costosi. Per evutare gli abusi, gli eurodeputati hanno ottenuto che un eventuale no alla richiesta di autorizzazione sia di fatto eccezionale e iscritto in un contesto legato alla sicurezza del paziente. Il Parlamento europeo ha ottenuto che le condizioni per rifiutare l'autorizzazione siano limitate e iscritte in una lista chiusa. Inoltre, un paziente non potrà ottenere un no se il trattamento in questione non è disponibile nel Paese d'origine, in cui è obbligatorio garantirne l'eventualità di un seguito. Infine, ogni Stato va a rendere pubbliche le cure trasfrontaliere. L'entrata in vigore della direttiva è prevista al più tardi alla fine del 2013, inizio 2014. Per saperne di più, un numero verde e un sito web sono a vostra disposizione. Grazie.